Siamo arrivati alla terza edizione di questo festival che vede ovviamente l'arrampicata sportiva come l'attività principale, quest'anno grazie al contributo del comune di Pietragamela ci siamo prodigati in uno sforzo più intenso nel promuovere anche altre attività comunque legate all'outdoor e quindi ci sarà la maratona di arrampicata che si svolgerà nella palestra degli aquilotti, ci sarà lo street boulder che è una gara di arrampicata lungo i vicoli del paese che si svolgerà domenica e tante attività collaterali tra cui uno show di highline si chiama così l'arrampicata, sono dei funamboli che camminano su una fettuccia sospesa nel vuoto, ci sarà l'orienteering, ci sarà lo yoga e quindi tante le attività quindi vi invitiamo tutti sabato e domenica 28 e 29 a Pietragamela Pietragamela è stata ed è la patria degli aquilotti del Gran Sasso, uno dei primi gruppi di arrampicata d'Italia la bella manifestazione dell'associazione Mondi Verticali, oramai la terza edizione, è nata con noi e è cresciuta con noi, abbiamo creduto in loro ed ogni anno stanno crescendo e portando avanti questa che è veramente uno dei fiori all'occhiero del nostro cartellone estivo, porteranno tanti appassionati, tante persone all'interno del borgo nella piazza di Sopratore, nella storica palestra degli aquilotti del Gran Sasso